segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma è curioso che non si sia dopo un mese ancora capito che cosa è successo perché non è che dice era pieno di uomini dello stato era facile che non si sia ancora capita la dinamica guardi non mi permetto di giudicare no mi scusi mi fa una domanda io non mi permetto di giudicare di esprimere pareri facciamo così né sulla procura nei suoi carabinieri che stanno facendo le indagini e da parte mia un'intromissione sarebbe anche particolarmente scorretta quindi meglio che prudente io sono sempre prudente sono sempre prudente e può fare io sono sempre prudente e sono orgoglioso di quello che faccio in parlamento sempre anche di aver fermato chi cercava di perdì di togliere il 41 bis ai mafiosi se la battutina si riferiva a questo sono orgoglioso del 41 bis è rimasto e matteo messina denaro sia morto col 41 bis senta però scusate se mi fate le domande vorrei rispondere non ci vedo niente di strano se la procura i carabinieri stanno approfondendo hanno evidentemente quando dice qualcuno mente mi sembra abbastanza evidente perché pozzolo dice non è partita a me il colpo tutti gli altri testimoni pare leggendo dei giornali non ho fatto le indagini personali ho letto i giornali pare che abbiano detto alla procura il colpo è partita pozzolo evidente che ho tutti gli altri mento non mente pozzolo ma non sta a me giocare a cluedo a renzi sarà la procura che farà l'inchiesta e scoprirà però no scusatemi una cosa perché siccome si parla di uomini di stato continuare a infilare in questa vicenda a tentare di mettere nel mezzo andrea del mastro è una cosa che non ha alcun criterio perché su una cosa convergono ci sono versioni diverse su una cosa convergono tutte le dichiarazioni di tutti alla stampa e pubbliche che del mastro non era nell'appartamento non era l'immediate vicinanza quindi metterlo in mezzo è una roba scorreta che serve solo da parte di lenzio lì non è che c'era la scorta di del mastro quindi se voleva dire c'erano degli uomini di stato doveva per forza citare del mastro fabrizio roncoro non ci vedo una dietrologia Renzi sta giocando e sta facendo credere no va bene però si deve prendere anche le sue responsabilità di quello che uno dice no come io devo chiudere fabrizio